Anticipazioni Endless Love, Onder nota l'ingresso di Leila al cimitero. Vildan segue Leila e si rende conto che anche lei è lì. Mentre Leila visita le tombe dei suoi genitori, scopre la presenza di Vildan e si rende conto che si conoscono. Ma non solo, scopre anche che sono sorelle. Vildan attacca subito Leila, ma quest'ultima non ha più intenzione di sacrificare il suo tempo per lei. Ha vissuto la sua vita come ha voluto, grazie anche all'indipendenza da Vildan, e non intende più sacrificarsi per una sorella che avrebbe preferito vederla soffrire e che avrebbe persino cercato di portarle via il marito. Leila rimane calma, provando compassione per Vildan e consapevole del suo malessere. Si allontana lasciando Vildan senza parole. Nel frattempo, Kemal e Onder si incontrano. Onder menziona il grande altruismo di sua figlia, ma presto rivela di essere a conoscenza della storia passata tra Nian e Kemal. Onder non ha intenzione di minacciare Kemal. Piuttosto, si scusa per il comportamento di Vildan cinque anni prima e spera che la sua rabbia non lo conduca a fare cose sbagliate. Kemal non vuole rivangare il passato e se ne va, sottolineando che non è lui a vivere nel passato, bensì Vildan. Nel frattempo, Emir incontra Banu in ufficio. Lei non è felice di sapere che Emir trascorre le sue serate con altre donne. Emir l'ha liquidata senza spiegazioni, ma Banu non si arrende e inizia a tramare qualcosa. In agenzia, Zeynep fa il colloquio e incontra il capo, oltre a Ozan che è interessato a conoscerla personalmente. Ozan rimane affascinato da Zeynep, che a sua volta è lusingata. Zeynep capisce che Ozan è il fratello di Nyan, mentre lui non sospetta affatto che lei sia la sorella di Kemal. Kemal arriva al lavoro, continuando ad essere pedinato dagli uomini di Tufan. Entrando nel suo ufficio, Kemal trova Nyan. È subito freddo con lei, ma questa volta lei è determinata a farsi ascoltare. Gli dice che non gli ha mai mentito. Sì, lo ha abbandonato, ma non ha mai smesso di amarlo né dimenticato il tempo trascorso insieme. Kemal non ha intenzione di scavare nel passato, ma Nyan gli consegna una scatola piena di ricordi della loro storia, lasciando a lui la decisione su cosa farne. Emir chiama Kemal e confessa subito di essere con sua moglie. Nyan se ne va, sapendo che Emir arriverà presto. Azul la vede andarsene e la sua gelosia cresce. Corre da Kemal, che nel frattempo ha nascosto la scatola di Nyan. Asu vorrebbe sapere se Kemal accetterà di fare un'intervista televisiva, e lui, malvolentieri, accetta. Asu cerca di capire perché Kemal sia così distante, ma lui vuole solo stare da solo e lei, delusa, se ne va. Nel frattempo, in macchina, Nyan è sconvolta per la discussione con Kemal. Si chiede se si è mosso solo dal risentimento e se non provi più nulla per lei. A stento trattiene le lacrime mentre gli uomini di Tufan continuano a pedinarlo. Emir arriva da Kemal in ufficio e gli chiede immediatamente cosa ci facesse sua moglie lì. Kemal inventa una scusa, dicendo che voleva che Nyan dipingesse le pareti della sua azienda, ma non è riuscito a convincerla. Emir va subito al punto, è lì per comunicargli che ha accettato il suo progetto aziendale. Da quel momento, tutto si svolgerà secondo il progetto e la volontà di Kemal. Emir è molto chiaro su questo punto. Accettando il progetto, Kemal non dovrebbe più nutrire risentimento verso Emir. Tuttavia, Emir pensa che Kemal abbia ancora un conto in sospeso con lui e, se non è una questione aziendale, deve esserci altro. Nel frattempo, Tufan è al negozio del padre di Kemal, Hussein, e Tariq. Non conoscono Tufan, ma è evidente il motivo della sua presenza. Per ordine di Emir, Tufan sta investigando sulla famiglia di Kemal per trovare un punto debole da sfruttare contro di lui. E sembra che Tufan stia puntando tutte le sue attenzioni su Tariq. Zeynep ha completato il suo colloquio e, per strada, incontra Ozan che la stava aspettando. I due parlano per qualche minuto e poi si separano. Ozan chiama il capo dell'agenzia dove Zeynep ha fatto il colloquio e ottiene il numero di telefono della ragazza. Nel frattempo, Zeynep è sull'autobus e riceve immediatamente un messaggio da Ozan. All'inizio riflette se sia opportuno rispondere o meno, ma poi, troppo lusingata dall'attenzione di un ragazzo ricco, comincia a corrispondere con lui. Emir si reca in banca per aprire la sua cassetta di sicurezza e prende alcune chiavette numerate. Ripensa a quanto accaduto cinque anni prima, nella tragica notte in cui Ozan uccise una ragazza. Emir organizzò la trappola con un'altra ragazza, una escort che spesso gli procurava compagnia per le serate. È chiaro che voleva una ragazza senza famiglia né amici che potesse poi non cercarlo. La ragazza era titubante nel collaborare alla trappola, ma vista la cospicua somma offerta da Emir, cambiò idea e accettò. Nel negozio di Hussein arrivano i rasoi elettrici nuovi che Tariq ha ordinato, ma che invece sono stati recapitati a Kemal. Tariq rimane offeso dal gesto del fratello, sentendosi ancora una volta messo in ombra per dimostrarsi migliore agli occhi del padre. Hussein, dispiaciuto per la reazione di Tariq, chiama Kemal e lo convoca nel negozio. Arrivato nel negozio, Kemal ascolta suo padre. Anche se voleva aiutare e sostenere il fratello, comprando lui i rasoi, capisce che di fatto lo ha offeso, non dandogli l'opportunità di dimostrare il suo valore anticipandolo nell'acquisto della merce. A malincuore, Kemal comprende che suo padre ha ragione e che ha ferito suo fratello. A casa, Emir mostra a Vildan e Onder uno dei video prelevati dalla cassetta di sicurezza, risalente a cinque anni prima, in cui si vede Osan disperato per aver ucciso una ragazza. Emir spiega di essere minacciato da qualcuno che chiede denaro per mantenere il loro segreto. Confessa di sapere tutto Sunyan e Kemal e pretende che entrambi i genitori gli confessino cosa sappiano della vecchia relazione di Vildan. Sotto pressione, Vildan e Onder sono costretti a scrivere come hanno conosciuto Kemal e cosa sanno. Mentre scrivono, Emir ripensa alla tragica notte dell'omicidio. Nella ricostruzione, una escort, in combutta con lui, dà una pistola finta all'altra ragazza, dicendole di convincere Osan a fare dei giochi pericolosi. Osan, ubriaco, si spaventa quando la ragazza gli mostra la pistola. Lei lo rassicura che l'arma è scarica, ma poi si sente uno sparo e Osan esce dalla stanza urlando di essere un assassino. Emir corre in suo aiuto mentre Niana è in laboratorio a dipingere. Nel frattempo, Kemal inizia la sua intervista televisiva in diretta. Durante l'intervista viene avvertito di essere seguito. L'intervistatrice chiede a Kemal come sia lavorare con Emir e quali siano le sue ambizioni future. Kemal, sentendosi paragonato a una figura come quella di Emir, riflette sulle ultime discussioni avute con Nian, suo padre e il suo amico Salih. È vero che negli ultimi tempi si è comportato più come un capo ambizioso, tradendo i suoi ideali. Decide quindi di scusarsi in diretta televisiva per gli errori commessi, promettendo di ricominciare da zero. Chi lo guarda da casa rimane soddisfatto della sua consapevolezza, tranne Tarik, che ancora una volta si sente messo in ombra. Nel frattempo, Emir ha ottenuto ciò che voleva, delle confessioni scritte da Vildan e Onder su come hanno conosciuto Kemal. Vildan è terrorizzata all'idea che Emir possa infrangere la promessa di proteggere Uzzani e non rivelare mai il loro segreto. Anche Onder è spaventato e arrabbiato per il poco rispetto ricevuto. Comincia a sospettare che Emir non sia minacciato da nessuno e che le riprese del delitto siano state fatte proprio da lui, utilizzandole come pretesto per tenerli in suo potere per tutti quegli anni. Vildan teme che il marito, mosso dall'orgoglio, possa vanificare tutti i sacrifici fatti e decide di chiamare Galip per discutere della situazione con lui. Nel frattempo, Emir e Tufan accolgono qualcuno a casa, è Tarik, chiamato da Emir per un lavoro. Anche se non sa di cosa si tratti, sapendo che Emir è un uomo ricco e rispettato, si presenta comunque. Durante l'incontro, Emir si allontana per controllare il cellulare, poiché qualcuno è appena arrivato al laboratorio di Nyan. È Kemal, che diretto verso casa decide di fare una deviazione e andare al laboratorio. In un momento imbarazzante, Kemal spiega a Nyan che quella mattina, per proteggerla dai sospetti di Emir, ha inventato di averle offerto un lavoro in azienda per dipingere le pareti. Nyan scherza al riguardo, suggerendo che non sarebbe una cattiva idea dipingere le pareti della sua azienda. Tuttavia, Kemal non è dell'umore giusto per scherzare e non vorrebbe che lei accettasse quel finto lavoro. Sta per andarsene quando qualcuno bussa violentemente al portone. Sia Nyan che Kemal pensano possa essere Emir, ma quando Kemal apre il portone, si trova di fronte due uomini di Tufan che li stavano pedinando. Gli uomini si lamentano del modo in cui Kemal ha parcheggiato la macchina e quasi immediatamente lo attaccano. Kemal si difende, e con l'arrivo della polizia, i due aggressori si dileguano. Nyan è sconvolta e spaventata, ma Kemal vuole solo andare a casa e non avere ulteriori problemi. Nel frattempo, Emir è ancora con Tufan e Tariq, che non sa che tipo di lavoro Emir gli voglia affidare. Emir, con astuzia, elogia Tariq e gli promette un compenso generoso. Lusingato e ammaliato, Tariq accetta il lavoro senza sapere ancora di cosa si tratti. Una volta a casa, Emir incarica Tufan di contattare anche Zeynep, per vedere se anche la sorella di Kemal è incline alle lusinghe e al denaro. Nel frattempo, Onder riflette sul fatto che Emir possa avere tenuto i video della notte dell'omicidio anziché cancellarli. Ricorda la sera di cinque anni prima, quando era con Emir per assicurarsi che cancellasse tutto, senza capire ancora perché Emir non si sia disfatto dei video. Terminano così queste anticipazioni. Cosa ne pensi? Scrivilo nei commenti, e se sei curiosa di sapere cosa succederà, scrivi nei commenti voglio il continuo, e presto uscirà un nuovo video. Alla prossima!